Lasciatevi chiudere con un ricordo di una persona che è stata anche assessore, consigliere comunale e che ci ha lasciato, che Lucio Marina era privato, il nostro ricordo, il nostro affetto ma credo anche, come dire, la nostra riconoscenza, ve lo dico perché se la piscina è coperta almeno l'abbiamo avviata, abbiamo avviato i lavori, siamo arrivati a buon punto anche per lo stimolo che quotidianamente mi faceva bussando che la porta e ricordandovi che quello era un sogno, un suo sogno, che voleva realizzare già da assessore degli anni 60, credo, di questa città. Quindi a lui questo riconoscimento, credo anche, spero, presto, l'innamorazione di quello che è.